Arzignano, con 11 bottigli di whisky occultati in uno zaino, un 26enne di origini nordafricane domiciliato a Montecchio Maggiore cercava di guadagnare l'uscita di un noto supermercato in via Diaz senza pagare il corrispettivo alle casse, un totale di 130 euro. Al personale interno però il suo atteggiamento furtivo non era passato inosservato e quindi al momento giusto i vigilantes sono intervenuti, bloccando l'uomo con il mal tolto e contestualmente allertando i carabinieri che hanno denunciato il ladro con l'accusa di furto aggravato. Con la stessa accusa è stata denunciata questa volta dagli agenti delle volanti una donna 35 anni di Tiene che aveva messo un segno due furti in due diversi supermercati di Vicenza. Portata in questura per accertamenti la polizia ha ritrovato nelle borse della donna prodotti per cosmesi, lame e un rasoio elettrico per un valore complessivo di 150 euro. Per lei è scattato anche il foglio di via dal comune di Vicenza.